Sconto tra vallate nella partita di sera nel pomeriggio di Secchiano dove in campo le due protagoniste si chiamavano nuova filte Alta Valconca. I gialloblu incappano in una delle classiche giornate storte dove nonostante le innumerevoli occasioni da rete i palloni di entrane proprio non vuol saperne. L'Alta Valconca con una buona organizzazione di gioco e viaggiando in dotazione con i kit targato cinismo porta a casa l'intera posta in paio. Eppure al settimo i padori di casa sembravano già indirizzare la gara a loro favore quando Abudul cercava l'interno a giro con buona guardia ad opera del portiere D'Andrea. Gli ospiti si rendevano pericolosi con Merli, murato al momento della conclusione. Più interessanti gli spunti offensivi creati nella nuova feltia quando prima Josef di testa chiamava la liberazione in corne D'Andrea poi lo stesso giocatore di piede alzava la mira dopo un'azione manovrata da parte dei compagni. Manno accorgendosi a tal punto dalla pressione dei gialloblu scodella un pallone invitante di tornare di rigore per sciozza che in acrobazia mette alla prova i riflessi del portiere di casa. La Tavalconca su filiera di più osterità inizia a credere nel colpaccio e medita la soluzione con un tiro centrale di Manno. Dalla punizione nasce con l'ospite. Cavalli mette al centro un pallone che lo prendo io, lo prendi tu, alla fine non lo prende nessuno. Passa tra una serva di gambe igannando lo stesso Germani che vede la propria rete gonfiarsi. Passano soltanto 120 secondi e la Tavalconca raddoppia. Mischi in area di rigore, deviazione finale, sfortunato di un difensore gialloblu con il pallone che carambola sui piedi di Grilli che incredono in sacca con un preciso piattone. Doccia fredda in tutti i sensi per gli uomini di comandini che tuttavia hanno in merito di non scomporsi. Nella ripresa un tocco sotto di Josef sotto misura viene salvato sulla linea di porta. Appuntamento con i gol soltanto rinviato di poco perché al 53esimo Dallara decide di incantare il pubblico amico e infine di bucare la porta avversaria. 1-2 e giochi riaperti. Ceca si infortuna per i pari ma sotto misura i padroni di casa non inquadrano il bersaglio. Più precisi gli ospiti con una sotterra velenosa di cavalli con Germani pronto a mangiarsi l'erba gettando il pallone in calcio d'angolo. Negli unici lampi il Valconca dimostra di inquadrare la porta meglio degli avversari ma Germani chiude ottimamente lo specchio a Saioni. Inova Felti approfittando di una gentile concessione dall'altra parte cerca di paraleggiare i favori servitori più a tempo. Ma nulla da fare come anche quando al calcio piazzato D'Andrea blocca senza problemi una punizione di Zerbini. D'Andrea per Dallara scambio di apostrofo nei cognomi. Stezazione fotocopia del gol con questa volta Dallara che tergiversa il tempo necessario per liberarsi e scaricare il pallone del possibile pareggio. Ma D'Andrea ancora una volta li nega la gioia del gol. E quando anche da un uscito a vuoto dell'estremo ospite la sfera sbatte sul linee superiore della porta si comprende che la giornata è di quelle storte. A nulla servono gli ultimi due disperati tentativi dalla distanza prima su azione e poi sul calcio piazzato. Il Valconca con pochi tiri in porta di cui due a segno porta a casa l'intera posta in paio dimostrando che squadra organizzata e cinica. Per il nuovo affetto e l'amarezza del risultato ma non sul piano della prestazione. Testa alta per risalire la china.